buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero prima carta già uscita vediamo quali sono le altre intanto io vi ricordo che se volete una sessione con me o volete diventare miei studenti non dovete far altro che inviare una email e parlare con angela oppure andate sul sito internet e fate tutto da soli sono già cadute le nostre tre carte che sono anche delle carte abbastanza impegnative energeticamente parlando io vedo qualcosa di abbastanza impegnativo abbiamo un sei di spade abbiamo l'eremita e abbiamo la carta degli amanti due sono arcani maggiori e una è una lama con un certo potere con una certa forza infatti i miei studenti di primo livello a questo punto hanno il compitino di riportare alla memoria la lezione sul potere delle lame sulla forza delle lame e invito i miei studenti a guardare questa stesa ovviamente vale anche per chi studia con altri o chi studia da autodidatta guardate questa stesa semplicemente osservate le lame lasciate che le immagini vi parlino lasciate che le immagini trasmettano il loro messaggio dentro di voi mettete il video in pausa osservate semplicemente le figure i colori in particolare io vi invito ad osservare i colori perché una cosa che sta arrivando a me in modo molto forte guardando queste tre carte è qualcosa che riguarda i colori dunque i colori cominciamo da qui perché questi ci danno un messaggio veramente forte il cielo in tutte e tre le lame il cielo ha un colore che dà sul blu grigio che è il colore del cielo quando è nuvoloso quando sta per piovere o quando ha magari o quando magari ci sono appunto delle nuvolone all'orizzonte o comunque quando il cielo è particolarmente coperto e l'aria è molto umida questo tipo di colore a livello intuitivo ma non si tratta nemmeno di intuito qui si tratta proprio di qui si tratta proprio del puro linguaggio delle lame qui si tratta di andare dentro al all'origine della tarologia al modo in cui le lame dei tarocchi sono state create sono state ideate le lame dei tarocchi sono state create ideate come spiego fin dal primo livello in modo tale da parlare al non alla nostra mente cosciente ma la nostra mente subcosciente quindi le lame dei tarocchi mandano dei messaggi indiretti al nostro subconscio messaggi tramite i colori tramite i simboli ma il colore è un simbolo in un certo senso non solo l'immagine quindi ma tutto ciò che riguarda l'immagine non solo la figura il dettaglio il disegnino o i personaggi disegnati ma tutto ciò che riguarda l'immagine il modo in cui le linee sono disegnate il modo in cui le curve o gli angoli sono rappresentati i colori presi singolarmente va anche il la mescola dei colori l'insieme dei colori ed è chiaro che questi i colori parlano a livello subcosciente e trasmettono un'emozione colore corrisponde a emozione questo è per tutti gli esseri umani a livello archetipico jung era stato abbastanza chiaro su questo quando parlò di archetipi colore uguale emozione ed è per questo che esiste la cosiddetta cromoterapia in cui noi ci facciamo curare dai colori dalle alternanze dei colori o da determinati colori uno psicologo sa benissimo che tipo di emozione viene trasmessa dal giallo quale dal rosso quale dal blu e quale dal verde perché sono sono elementi che colpiscono parti della nostra mente molto primitive inoltre il colore è anche un qualcosa che ci distingue dagli animali infatti se il colore corrisponde all'emozione e l'essere umano è in grado di vedere una certa gamma di colori non vi fa pensare non vi fa riflettere il fatto che gli animali non vedano i colori come li vediamo noi che per esempio alcuni animali vedono solo alcuni colori e altri animali vedono addirittura tutto in bianco e nero perché gli animali non hanno la gamma di emozioni che abbiamo noi si provano emozioni ma non con la definizione con cui le proviamo noi esseri umani infatti la varietà di colori che noi vediamo non è la varietà di colori che appare a un animale noi abbiamo una gamma molto più ampia una varietà molto più ampia quindi il colore corrisponde all'emozione per questo quando si studiano i tarocchi e per questo quando io insegno la tarologia punto molto con i miei studenti a insegnare non solamente il significato della lama bla bla questo è questo questo è quello ragazzi vi comprate i libri se volete imparare la tarologia in quel modo quello che io faccio con voi è guidarvi in un processo che vi porta a aprire la mente e fare entrare quello che da solo vuole entrare quello che da solo vuole arrivare non dovete sforzarvi quando vi trovate davanti alle carte non dovete sforzarvi di capire che cosa vogliono dire basta guardarle e ascoltarsi ascoltare le emozioni e non è una cosa immediata non è una cosa che possiamo fare tutti facilmente soprattutto al giorno d'oggi non siamo abituati o addestrati a usare questi lati di noi queste parti della nostra mente la società purtroppo ci insegna a fare altro ma basta poco vi basta appunto già un primo livello per cominciare a comprendere come funziona tutto questo ovvio che poi nei corsi di tarologia avanzata approfondiamo molto questo tema ma torniamo alle nostre lame il grigio del cielo è un colore che trasmette un senso di tristezza un senso di chiusura in se stessi un senso di calma ma non una calma come dire non una calma bella e piacevole ma una calma che porta magari con sé un po di nostalgia e che se non viene ben gestita può per esempio portare anche a stadi depressivi una calma avete presente quelle persone che dicono a me piace quando piove altre invece dicono no io mi prima o quando piove ecco questo essere meteoropatici è semplicemente una delle conseguenze di questo di questa comunicazione fra i colori fra altri elementi oltre ai colori e la mente subconscia quindi mentre il grigio del cielo può essere bellissimo per qualcuno per altri invece può portare a depressione per le persone a cui piace il grigio è perché semplicemente porta un po a rinchiudersi in se stessi e a star bene con se stessi a guardarsi dentro di solito chi è in pace con se stesso ama la pioggia o le giornate buie chi invece è meno in pace con se stesso non sta proprio a suo agio ma ovviamente sto generalizzando e quindi non prendete con le pinze quello che ho detto questo grigio quindi tra l'altro se guardate anche il il disegno è evidente che sta parlando di qualcuno che sta da solo qualcuno che o per scelta o per obbligo deve passare la giornata di oggi in solitudine solitudine a volte significa stare davvero soli altre volte significa stare soli in mezzo alla gente quindi ecco saprete voi di cosa si tratta e magari me lo commenterete qui sotto ah è anche interessante per per i ragazzi che studiano con me è interessante vedere che cosa ne pensate voi del grigio dei colori quindi magari scrivete qualcosa su come voi sentite e percepite i diversi colori questo ci potrebbe aiutare tanto il sei di spade parla di un allontanamento parla di una scelta che è stata fatta e che porta ad un allontanamento porta ad un lasciare andare un qualcosa ma non del tutto non del tutto si tratta di un andare avanti in realtà lasciando qualcosa alle spalle e portando con sé qualcos'altro quindi ci allontaniamo da qualcosa ma il pensiero di quel qualcosa ci segue ancora l'eremita parla dello stato di isolamento solitudine e meditazione nel quale ci troveremo e la carta degli amanti parla di una scelta da fare una scelta che viene fatta in solitudine che viene fatta che viene fatta in un momento in cui siamo in grado di guardare dentro noi stessi e cercare bene quello che vogliamo e quello che desideriamo quindi non è di certo una scelta superficiale anzi qui si tratta di un qualcosa di davvero sentito si tratta di un qualcosa che noi abbiamo dentro che dobbiamo andare a cercare osservare e poi dopo a tirare fuori e per farlo dobbiamo essere soli con noi stessi ma vediamo un po adesso qual è il consiglio degli angeli per la giornata di oggi o magari per qualcosa che sta accadendo nei giorni subito prima o subito dopo quindi qualcuno si potrebbe trovare proprio oggi a star da solo o a sentirsi solo e qualcun altro potrebbe invece accadere o magari è già accaduto nei giorni vicini a questo quindi prendiamo una carta vediamo un po che cosa gli angeli ci dicono asso di fuoco ebbe ebbe questo asso di fuoco sta uscendo spesso nelle ultime stese sta veramente uscendo spesso e questo asso di fuoco parla appunto di questo qualcosa al quale ci stiamo preparando sono giorni che lo dico sono giorni che esce ma noi tutti ci stiamo preparando qualcosa qualcuno di voi lo sa qualcuno di voi non lo sa e magari arriverà questo qualcosa all'improvviso sarà un un po una sorpresona però ecco ci stiamo davvero preparando a qualcosa di importante che porterà ad un avanzamento nella nostra vita a un nuovo inizio a una nuova opportunità a un vero e proprio cambiamento di vita di nelle condizioni della nostra vita qui si tratta di qualcosa che qui si tratta di qualcosa che ha un impatto sicuramente che ha un impatto e tutto quello che sta accadendo in questi giorni è proprio per prepararci per arrivare a questo momento per il resto ragazzi andate sul sito iscrivetevi ai miei corsi oppure inviate una email e noi ci vediamo a domani